La forza e il successo del Suemmon Trio che nel concerto di questa sera ha fugato ogni perplessità su un repertorio di sole composizioni originali, secondo lei a che cosa è dovuto? In generale un vero supergruppo non è solo avere ottimi musicisti o dei fenomeni sul palco, ma è soprattutto, secondo me, come viene gestito il rapporto tra i musicisti, che deve essere a mio avviso imperniato sull'inequivocabile e convincente contenuto musicale che il leader va a proporre. Bisogna in sostanza anche essere un buon leader. Per me questo devo dire che non è un desiderio, ma è una necessità che ti permette di esprimere meglio te stesso personalmente. Un buon leader deve essere anche, prima di tutto, convincente con i musicisti con cui collabora, creando questa predisposizione a essere seguito, a interagire con te, a collaborare. Questa cosa live, in questa musica, si percepisce tantissimo anche da parte del pubblico in cui crei questa predisposizione ad ascoltare e a seguire il concerto con entusiasmo. Un'altra cosa importante, almeno io vedo il concerto come fosse un film, con una importante gestione della scaletta. Per me la scaletta è una cosa molto importante, la scelta dei brani, la sequenza con cui tu li ordini e questa non è sempre uguale. Viene allestita a seconda anche di che tipologia di taglio vogliamo dare al concerto, delle situazioni anche di ascolto. Quindi valorizzi determinati aspetti proprio sapendo gestire bene la scaletta, che per me è una componente importante tanto quanto fare un assolo pazzesco. Perché proprio ti fa vedere il concerto in una forma unica. E questo è molto importante. Se posso ancora aggiungere anche poi cosa suoni. Il jazz è come suoni, ma il plus valore è anche avere queste composizioni originali che funzionano, quindi devono essere all'altezza di comunicare qualcosa di significativo. E poi però vanno concretizzate con delle esecuzioni ad hoc, convincenti. Devono mantenere questa freschezza necessaria per renderle sempre attuali. E devo dirti che per me è quello che succede con questo trio.